Ciao a tutti ragazzi, siamo in un nuovo video e se mi sentite un po' più spento del solito perchè sto con il ginocchio un po' ucciso sta piovendo mi hanno proposto, mi hanno proposto, mi hanno minacciato di morte perchè ho parlato con una ragazza che aveva un fidanzato di merda e quindi va un po' tutto di merda comunque siamo su un video neo gameplay ma è per lo più una recensione di questo gioco che mi è stata richiesta da Alien Gin per gli amici Jimbo che andiamo a salutare di che gioco stiamo parlando? Confused Ship che sarebbe la capra, cioè la pecora confusa confusa perchè come si può vedere diciamo fuma assai erba e quindi andiamo a giocare immediatamente mi ha chiesto una recensione quindi non andrò soltanto a giocarci ma andrò un mio giudizio concreto il gioco mi è piaciuto anche se effettivamente non l'avrei mai scaricato perchè non l'avrei mai scaricato? per questo si muore in continuazione è tipo Cat Mario i menu mi piacciono, sono fatti bene vi è anche la musica che però rompe un po' i coglioni infatti l'ho messo al minimo e la protagonista è questa pecora che si confia che non ha altri poteri speciali si prendono questi gettoni che servono poi si diventano tanti per prendere qualcosa di più speciale che magari se ci riuscissimo ok per quanto riguarda le ambientazioni allora i testi vanno bene le ambientazioni sono semplicistiche con questi alberelli sulle colline dietro è un gioco diciamo semplice ma comunque è abbastanza intuitivo è divertente quindi ve lo consiglio gratuito dal diciamo dal play store e come giudizio se dovessi dare un voto da 1 a 10 e un gioco da 7 7 e mezzo onestamente ecco togliamo un voto perchè mi fa morire sempre comunque sono stato sfidato ad arrivare a 1000 quindi ci proviamo o comunque devo superare il mio record e che palle il mio record è di 521 cerchiamo almeno di superarlo e quindi questa è una frase un po' più del play del gioco cazzo oltre diciamo vi do una nuova notizia ovvero quella che il mio video il video dei pack time ecco è stato sponsorizzato su una pagina facebook di una community che si chiama Italia aspetta Youtube Italia che lasciamo insieme di cui parlerò anche nel prossimo video magari mettendo qualche link diciamo in più e quindi è stato sponsorizzato sulla pagina facebook e vi è anche un sito in cui si possono fare le proprie richieste e così via e serve diciamo per collaborare per avere aiuto e diciamo così via ne parlerò un po' di più nel prossimo video oggi non vado nel dettaglio il prossimo video che ho già praticamente completato e sarà successivo a questo sempre prossima settimane sto andando alla grande perché non sto studiando un cazzo mi impegno a fare il platin lover il più possibile ah ieri Milano ha vinto vaga incredibile doppietta di bacca e gol di buonaventura però andrei concentrati questa una revisione potete dotare la differenza tra questi uccellacci un po' più gialloni e quelli bianchi la differenza è che quelli hanno fumato e questi no questi gettuni li pigliamo cazzo porca ok concentrato concentrato puntino soldi salta salta oh madonna mia ma che palle ti odio gioco di merda ti odio di merda non eh cioè per dire che se no non paga no scherzano non paga nessuno in casa e what are what are raga raga mi sa che sta anche il turno intrasettimana ma proprio i soggetti come è andato il mio pantacalcio quanti big money raga ok ok sta venendo l'ansia sono quelli che fanno venire l'ansia una scatola segreta mazza come sta saltando ok e beh che pro uuu bello di casa no è un gioco baggato ti fa perdere la poffa raga ci sono anche delle minissime cioè dei compiti da svolgere qui in base a questi compiti ti dà che ne sono soldi premi e roba del genere oh ma che palle basta queste pubblicità se le pubblicità invasive comunque non ci può guardare tutto quindi ci sta ah il tuo sorriso sarà un orso però mettetevi le mani nei capelli ah tnt vincelli bianchi ok 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 ci sto chiedendo vai 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 ci sei tu bravissimo e che cazzo e che cazzo porca puttana è una cosa che manca questo gioco è super potere non posso sparare questa pegola non può buttare la nana a ripetizione mi sto arrabbiando mi sto arrabbiando mi sto incazzando raga mi sto incazzando arrivati a 1500 vi farò vedere qualcosa che non si vede non si vede tutti i giorni e che pale fammi arrivati a 1500 però e che cazzo io non so quanto trovo tagliare di questo video puntine soldi giallo muoio ok ricominciamo da sfifazione soldi l'hai fatto primo uguale cazzo rollo ok ok tanti soldi eh vabbè eh però che cazzo fammi vincere una volta per là e ci stavo riuscendo e ci stavo riuscendo 1440 1500 sorpresuna raga l'ho scoperto ci riuscissimo e guarda e guarda uh 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 bello uh 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 dai siamo arrivati a 1500 taglie beh adesso non mi posso fermare dovrei cercare di battere il mio record di 520 quindi andiamo dritti e che cazzo porca puttana non siamo manco arrivati possibile no 1500 tanto il cazzo comunque questo qua è lo store e con i nostri soldini di cappellini che non prenderò poi prendo il colore che non cambierò per adesso addirittura aggiornamenti rallenta il tempo aumenta il salto sono molto interdetto su quello che devo comprare ci compriamo questo perché ve lo voglio fare assolutamente vedere vi farò vedere l'invincibilità detta anche erolinea prima vediamo un po' se riusciamo ad andare un po' più avanti con il gioco e che cazzo dovevo utilizzarla adesso ok raga sono super saiyan no raga sono super saiyan spacco tutto cioè spaccavo tutto comunque è spiegissimo super saiyan mamma mia uh uh non è più però super saiyan e vabbè come cazzo lo superavo raga non riuscirò a superare il mio limite non riuscirò manco ad arrivare a mille ma è meglio che io concluda questo video prima di impazzire però prima di concluderlo volevo giusto sponsorizzare velocemente questo canale che oggi mi ha sponsorizzato e io non sapevo manco che l'avesse fatto quindi per ringraziarmi sponsorizzo fix tube fails 276 iscritti quindi complimenti mi ha sponsorizzato in sponsorizzazioni 2 cosa ho visto di lui ah si ho visto qualcosa di in segreto si poi questo ice chubby bunny come ha scritto bunny che sono comunque vedo anche delle collaborazioni ma soprattutto c'erano anche dei gameplay se non sbaglio ecco di qui quindi vi consiglio sull'entra questo canale queste sono le sue informazioni e direi che tutto per questo video e prima che succeda qualcosa di imprevisto tipo che scoppe cellulare io vi saluto bella ragazzi bella 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 Grazie a tutti.